Delle due routine. Tra le cose che più amo fare c'è la frequentazione dei mercatini. L'altro giorno ero un mercatino e mi sono soffermato su un poster che ho riconosciuto. Ecco questo esattamente. Nel quale ho riconosciuto qualcosa del tempo della Swinning London e ho deciso di acquistarlo. E ho detto però vedi è proprio c'è un mondo in questo. Io l'ho richiamato manifesto. L'ho acquistato e poi tornando a casa ho voluto fare una ricerca. E guarda un po' cosa ho scoperto. Il manifesto era questo. Guarda il costo. Lo vedi? Io l'ho pagato 22 euro e 50 centesimi. Qui invece se guardi bene il manifesto è lui. È proprio lui. Esattamente. Lo vedi? Guarda il costo. 979,87 euro. Semplicemente questo. Baci a tutti. Te le do roti.